Benvenuti ragazzi in questo nuovo video qua sul mio canale Oggi ragazzi vengo fattornati nel post partita di Lazio-Juve Mi raccomando ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale Attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche Scusate, vabbè, e niente, condividete questo con tutti i vostri amici Adesso passiamo al video La Lazio che perde in casa 2-0 contro la Juventus Allora, ci tengo a fare i miei consigli Allora Il primo tempo è stato parecchio noioso Cioè ci sono state veramente poche occasioni Come in realtà tutta la partita Non è stata una parte a bellissime, ricche occasioni Però qualcosa c'è stato Tra due dal secondo tempo Il fatto sta che, allora Doro il voto ai calciatori da Juve e ai calciatori da Lazio E anche alla squadra Lazio voto 5 Comunque, si sta a perdere quella Juve anche 2-0 Ma non puoi perdere così raga Non hai creato nulla Cioè la Lazio oggi non è scesa in campo Ha fatto un buon possesso palla Però il possesso palla è inutile se non credo occasione Quindi la Lazio voto 5 Reina 5 Giallo, vabbè non poteva fare altro Poi difesa con Lazari Non è passato Non è passato Voto 5 E mezzo Poi Luis Felipe 6 È l'unico, forse uno dei pochi che ci ha provato A Cervi 6 Ma anche lui una discreta partita Ha provato a fare qualcosa D'annaccio lungo per Milicic Municci non riesco a colpire di testa E sarà forse l'unica bella cosa del Lazio Poi Terzina d'altra parte Usai che sono mai fatto una bella partita A cui voglio dare 6 Quindi Usai voto 6 Centrocampo con Cataldi Voto 5 Raga Cataldi meno male Ha giocato una brutta partita Ha causato il fallo da rigore A Alvaro Monato Rigore che ci stava Perché non era un rigore incredibile Netto Però era un rigore che ci stava Diciamo che se anche non lo dava Secondo me Non era una ladrata Però era molto più una ladrata Se non si dava il secondo Perché era sacrosanto Poi Minkovic Savic Voto 6 Ma ha fatto Ci ha provato anche lui Come dicevo prima Anche per gli altri Alcuni Quindi Però non è riuscito a fare niente Luis Alberto 5 Non era affatto una buona partita Non era affatto niente Lì avanti alla Felipe Anderson Inesistente raga Non ho visto un pallone giocato Da Felipe Anderson Voto 5 Pedro 5 e mezzo E Zaccagni 6 Allora Zaccagni Ci ha provato anche lui Perché qualcuno Della Lazio Ci ha provato Però Non sono riusciti A sfondare la porta A creare belle occasioni Pedro Un po' Inesistente Se fosse stato Alla Potreva creare Il mondo Di più Pericoli Ferri E Anderson Voto 5 Non è proprio Riuscito a fare niente Juventus Voto alla squadra Assolutamente Raga E mi sbilancio 7 e mezzo Forse un po' Altino Poteva anche Dare 7 Però Poi Io Staggni Non lo so Anche con Le Pagelle Perché la Juventus Ha fatto una partita Maestosa Raga Ha fatto forse Una delle migliori partite La stagione Se non la migliore Due gol Che sono tanti Soprattutto contro Lazio Cioè io Veramente Questa è una delle partite Che io dico Questa la Juve La perde Se io già Nella mia testa Dico Nonostante Lazio Non c'aveva Una grande rosa In campo Dicevo La Juve La perde Anche male Ero convinto La Juve Non vincesse Anche dopo Il gol Del vantaggio Di Bonucci Che Ha segnato Doppietta Cosa sto Però Ottima Juve Cesni 6 Niente di che Non ha dovuto Fare parate Poi Difesa Con Delict Voto 6 e mezzo Ha coperto Molto bene Bonucci Raga Voto Assolutamente Voto 7 e mezzo Ha fatto Doppietta Su rigore Grande personalità Lo sappiamo Qualcosa Sempre sbaglia Però Vabbè La miglior partita De Bonucci Al di là Dei due rigori Poi Pellegrini Ma che partita Ha fatto Pellegrini Cioè Sapevo Ha sofferto Un po' Nei primi 20-30 minuti Che non mi piaceva Tanto Poi Veramente Ha fatto Una partitona Non ha spinto Per carità Però Ha difeso Alla grande Raga Pellegrini Per questo Per questo Quando si attaccava Devastava Non era Non è Secondo me Un gran giocatore Poi Danilo Vabbè Non mi do il voto Spero Non sia nulla Di grave Per Danilo Poi Il centrocampo Avevamo Rabiot Che Giocato A tre È molto meglio Infatti Voglio dare sei Bella partita Anzi Sei e mezzo Non ha fatto Particolari sbagli Poi Locatelli Un sei Non una grandissima partita Però manco Peruta Perché Ha rischiato Tantissimo E ha sbagliato Anche qualche pallone Però Forse tra i tre È stato il peggiore In campo Però Peggiore È esagerato Quindi Bella partita Comunque di Locatelli Poi C'era anche McKennie Non ha fatto Praticamente niente Voto sei Non ha però Sbagliato Tanto Quindi Ottimo Poi c'era Chiesa Ragazzi Una partitola Sette Pieno Grandi scatti Nel primo tempo Non si vede Nel secondo Procura il calcio A rigore Manucci Se gli entrambi Spettacolari Spoi Kulusevski Voglio dare sei Perché comunque Ha fatto Tanti errori Soprattutto nel primo tempo Nel secondo Decisamente meglio Quindi Sei Forse tra Forse è stato il peggior In campo Non lo so Però Comunque Ha fatto una buona partita Anche Kulum Piano piano Anche Kulum Si sta ritagliando Il suo spazio Tra virgolette Poi Che c'era Morata Meglio Decisamente Però Anche lui Non ha creato Particolari Pelicoli Voto sei e mezzo Perché si è procurato Perché si è procurato Il calcio Il calcio di rigore Poi c'era Anche Chi c'era Oh mio dio Oh Non me lo ricordo Ma chi era Un flashback Quadrado Bella partita Quadrado Voto sei Poi Non si è visto Tanto Quadrado Ma anche Allora Ha rischiato Tanti difese Ma In attacco Ha fatto bene E poi c'era un altro Ma mi sa che L'ho detto Tutti Si Ken Bella partita Quando è entrato Sei e mezzo Senza alcun dubbio E poi vabbè Gli altri Non si stanno a nominare Quindi queste Erano le pagelle Poi nella partita La Lazio Ha dominato Il possesso palla La Juve Giocava Molto Di contropiede A me il calcio In contropiede Non mi piace Ecco Però Comunque la Juve Me ne ha un po' Dalle statistiche Si può vedere Qui Me ne ha un po' No Non si può vedere A quanto parte No Non si può vedere Vabbè Fatto sta grazia Ha tenuto più Il possesso palla E poi la Juve Riparteva molto bene E Mi ha un incalbo Assolutamente Per un ucci E chiesa Nella partita Quindi raga Io vi potrei salutare Qui Bellissima partita Poi abbiamo Un certo Ecco Diciamo che Importa meno Rispetto alla partita Contro l'Atalanta Che sarà Il 27 Quando è Tra Tra sette giorni E poi per fortuna Mi ha un po' Di partita Abbordato Di sulla cacca Però attenzione Sebrano quelle partite Insidiose Quelle scuole piccole Che rompono sempre Le scatole Quindi raga Io vi saluto Perché Andrò in bagno Perché Mi sto trattenendo La pipì E quindi raga Io vi saluto Bella Ciao Andrò in bagno alternative Che Che Quael Che Che Sch Che 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 Grazie a tutti.